la musica è sfumatissima salve a tutti e grazie e bentornati con oggi siamo con mister jump mai provato perché ma so che come ah ok non l'ho mai provato quindi se faccio rifi questa è una lunga serie 12 o di più episodi il primo livello sembra facilissimo ecco ho detto l'ho visto dal vostro caro dex e quindi mi è piaciuto molto e quindi come ho fatto un casino per cercarlo ma alla fine l'ho trovato grazie a dexter perché lui è un mito sì scusate scusate da dove andiamo a finire cosa questa cosa cos'è cosa 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 c'è è possibile è possibile ma è possibile sto livello e poi figuriamoci che ancora è livello 1 allora fa veramente arrabbiare è peggio di giovani dash no giovani dash è molto peggio sottosopra e questa è soltanto la metà e questa è soltanto la metà mi sa che proveremo anche il secondo se riusciamo a finirlo e ammazza quanto è difficile cioè davvero sul giovani dash il primo livello che già è un po' difficilotto c'è l'ho fatta al primo colpo invece questo ok non facciamo l'erroi di prima dai grande bravo oh passiamo al secondo ah è come uh è come il geometri di dash però è più difficile ecco allora non riesco a capire dove siamo siamo su una giungla oddio quanto mi ricorda super mario bros perchè c'è da giu nel mondo 5 ecco dai nel prossimo episodio faremo faremo il live proviamo a fare il livello 3 dai cacchio se riuscirò a finire sto livello dai dai sì dai 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 io stanno rompendo si sono ok iscrivetevi anche al vostro caro dexter ma iscrivetevi anche al mio più a quello del vostro caro dexter più del mio perchè lui ha un mito mannaggia sto gioco il cacchio perchè l'ho fatto perchè e poi abbiamo anche lunghi episodi ho appena visto che sono 12 livelli ultimo dettativo eh se non ci riusciamo adesso ok abbiamo provato a fare questo noi ci vediamo al prossimo video in cui riproveremo a fare il secondo ciao ciao